Sorprese poche ad eccezione della New Entry, il commercialista Vincenzo Cirignotta che entra nel collegio sindacale del lato CL2 in liquidazione. Si è definito nella giornata di ieri il nuovo scenario degli organismi tecnici dell'ambito che attualmente continua a gestire l'impianto di compostaggio di Brucazzi e le vasche dismesse a Timpazzo. L'assemblea convocata dal commissario Giuseppe Lucisano si è riunita proprio ieri in presenza dei primi cittadini che sono gli stessi che fanno parte anche della SRR4. Le conferme nel collegio sindacale hanno riguardato il presidente, il professionista niscemese Carlo D'Alessandro e il commercialista Giacomo Gulizzi che è anche il revisore legale di Geras che furono individuati già quando la guida del lato era dell'ex commissario Giuseppe Panebianco al posto di Angela Stimolo che ha lasciato l'incarico. È stato scelto proprio Cirignotta con il sostegno tra gli altri del sindaco Lucio Greco. Cirignotta dopo la lunga esperienza in consiglio comunale tre anni fa ha scelto di non ricandidarsi concentrandosi sulla sua attività professionale. Da qualche tempo è vicino all'area forzista ma al momento senza ruoli attivi. Lo stesso Cirignotta, D'Alessandro e Gulizzi sul quale pare esserci stato il sì di diversi primi cittadini si occuperanno di portare avanti l'attività del collegio sindacale di un ente che da anni è in fase di liquidazione che dovrà chiudere tutti i conti soprattutto con i comuni che devono ancora coprire consistenti creditiato. La conferma dell'assemblea è arrivata anche per il revisore legale, il professionista buterese Salvatore Calaciura che era già in carica. Tutti i professionisti hanno presentato domanda sulla scorta di un avviso pubblicato dall'ambito. I sindaci soci hanno deciso i nominativi, così spiega anche il commissario Lucisano. C'è stata serenità proprio nelle decisioni, ribadisce lo stesso Lucisano. Erano nomine necessarie per portare avanti le attività tecniche. Attualmente Ato è ancora in attesa di pronunce importanti anche dal Tribunale delle imprese di Palermo davanti al quale pende il procedimento per un credito da circa 16 milioni di euro che grava sul comune di Gera per costi e attività in discarica del passato. C'è anche la diatriba con l'SRR4 proprio sul punto della gestione dell'impiantistica con il CGA che si è già espresso individuando il sistema di compostaggio come patrimonio Ato.